SIA NOLO DA SIA NOLO DA GEMMA GALGANI Santa Gemma nacque a Camigliano di Lucca il 12 marzo del 1878. La buona madre, spesso, mostrandole il crucifisso, le diceva «Vedi Gemma, questo caro Gesù è morto per noi in croce». A quella vista la fanciullina, profondamente commossa, piangeva. Questo piissimo sentimento di amore verso Gesù appassionato fu la caratteristica della sua vita, vita di amore e di sacrificio. Gesù, di fatti, l'aveva prescelta e la voleva santificare attraverso vie straordinarie, facendola partecipe dei suoi dolori e attirandola a sé mediante vincoli di amore ineffabili. Già fin dalla fanciullezza ebbe a soffrire e lei tutto soffriva per amore del Signore. Nel 1899, due anni dopo la sua offerta col voto di perpetua verginità, fu favorita del dono delle stimmate. Godeva anche la confidenza del suo angelo custode, il quale la liberò da molte tentazioni e portò perfino la sua corrispondenza al padre Germano, suo direttore spirituale. Consumata più dalle fiamme del divino amore che dalla malattia, se ne volava al suo celeste sposo l'11 di aprile del 1903, vigilia di Pasqua. Una biografia molto bella di Santa Gemma fu scritta da una certa Suor Gesualda. In questa biografia si legge che Santa Gemma ha ricevuto le stimmate proprio sotto il manto della Madonna. Ecco le parole scritte da Suor Gesualda. Alla raccoglimento successe ben presto il rapimento dei sensi e Gemma si trovò dinanzi alla Madre Celeste e con al fianco il suo buon angelo. Recitato per ordine di lui l'atto di contrizione, ella udì dalle labbra della Santissima Vergine questa duplice assicurazione che le dette palpiti di amorosa riconoscenza. Figlia, in nome di Gesù ti siano rimessi tutti i peccati. Gesù mio figlio ti ama tanto e gli vuol farti una grazia. Saprai rendertene degna? Che mai rispondere? Gemma tacque. Maria, aperto il manto, amorosamente la coprì con esso. Da quel dolce rifugio Gemma vide venire a sé l'appassionato Signore. Come sempre tutte le piaghe di Lui erano aperte. Questa volta però non ne usciva sangue, ma fiamme. Ed ecco quelle fiamme andare a toccare le mani, i piedi, il costato della fanciulla che credette di morire di dolore e di dolcezza e sarebbe morta veramente se la Vergine Benedetta non avesse sostenuta la sua debolezza. Così, appoggiata al suo cuore, coperta del suo manto, Gemma passò qualche ora. Deposto finalmente un bacio materno sulla fronte della fanciulla, la visione scomparve. Gemma si trovò inginocchiata in terra. Provò un forte dolore alle mani, ai piedi, al costato. Tentò di rizzarsi. Non poteva. Vi riuscì finalmente con grande difficoltà. Le ferite sanguinavano, le fasciola meglio e, aiutata dal suo buon angelo, si pose a letto. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con una preghiera a Santa Gemma. O Santa Gemma, quanto pietoso era il tuo amore per i miseri, quanto grande il tuo zedo per aiutarli. Vieni anche in mio aiuto, nei miei presenti bisogni, e ottienimi la grazia tanto desiderata. Sei profittevole all'anima mia. I numerosi miracoli, le meravigliose grazie attribuite alla tua intercessione, infondono in me la fiducia che tu mi potrai aiutare. Prega, Gesù, il tuo Sposo Celeste, per me. Mostragli le stimmate che il suo amore ti ha donato. Ricordagli il sangue che da esse stillavi, gli spasimi che tu hai sopportato, le lacrime che tu hai versato per la salvezza delle anime. Poni tutto questo tuo tesoro prezioso, come in una coppa di amore. E Gesù ti esaudirà. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Giuseppe e di Santa Gemma Galgani, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente, e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati, Gesù, Maria e Giuseppe. Siano lodati, Gesù, Maria e Giuseppe.